Per garantire il distanziamento sociale e contribuire a sollevare la ricettività dei vostri locali possiamo aiutarvi con la cena a bordo del nostro veicolo, sostando nei vostri parcheggi, aggiungendo così al servizio ai tavoli il servizio ai camper. E, un'idea veramente eccezionale. Restiamo a casa nostra, ma gustiamo le vostre specialità come sempre amiamo fare. Allora, che ne pensate? Partiamo? Mi aspetto un vostro contatto a breve. Arrivederci.